salve a tutti ben ritrovati ad un nuovo appuntamento in questo video vorrei parlare di un pensatore di cui mi sono già occupato altre volte e che ritengo fondamentale per capire il nostro tempo ma non soltanto sto parlando di george sorel perché george sorel è importante perché ci fa capire molto di quello che accade nel nostra epoca non è interessante soltanto dal punto di vista storico ma è interessante anche per i parallelismi che si possono trovare nell'analizzare il periodo storico di sorel e quello di oggi il periodo storico di sorel si colloca a cavallo di una crisi quale crisi quella del mondo liberale noi nell'ottocento nella seconda metà dell'ottocento abbiamo la nascita delle prime cosiddette democrazie liberali pensiamo per esempio all'italia no l'italia nella seconda metà dell'ottocento comincia a sviluppare quella che è l'italia l'unità innanzitutto ma poi anche la la democrazia la cosiddetta democrazia parlamentare questa questo sviluppo è accompagnato e diciamo anche sostenuto da una visione filosofica che è quella di una idea di progresso come linea come avanzamento che corrisponde anche al miglioramento delle condizioni di vita delle persone quindi c'era l'idea che il progresso avrebbe portato libertà benessere educazione miglioramento dei rapporti sociali pace tranquillità eccetera eccetera quindi questo con questa idea positivista della storia anche attraverso l'apporto delle scienze era l'idea principale del liberalismo si credeva che con l'avvento del liberalismo finalmente il mondo potesse entrare nella nello sviluppo nel benessere nella nel nel ottenimento di una come dire uno stadio evolutivo migliore diciamo rispetto a quello precedente dell'umanità però c'è il risvolto della medaglia perché il liberalismo il progresso non sono soltanto benessere tranquillità educazione eccetera eccetera ma hanno anche i loro risvolti la fine dell'ottocento è l'inizio della seconda rivoluzione industriale e quindi il mutamento sociale del del diciamo dell'ambiente antropomorfo quindi abbiamo le città che diventano sempre più grandi abbiamo le periferie che si ingrandiscono le città non sono più quelle che stanno dentro alle mura cittadine ma si allargano dove si allargano intorno alle fabbriche alle fabbriche dove lavorano centinaia di persone migliaia di persone decine di migliaia di persone lavorano in queste fabbriche a condizioni terribili tra l'altro lavorano anche donne e bambini e queste persone da dove vengono spesso vengono dalle campagne quindi abbiamo uno spopolamento delle campagne a favore delle città città che diventano invivibili diciamo cresce la criminalità cresce l'alcolismo la prostituzione eccetera eccetera un evento simbolo di questo momento è l'esposizione universale di parigi del 1889 con la torre eiffel l'esempio del progresso liberale in quell'occasione si presentano però non soltanto aggeggi che possono migliorare la condizione di vita ma anche armi anche armi nuove armi da applicare alle guerre del futuro e ovviamente queste guerre come vedremo non tarderanno ad arrivare nel mondo politico nel mondo politico questo mutamento crea le prime ideologie di massa perché il liberalismo sostanzialmente era rimasto anche per via di un suffragio universale ristretto il liberalismo era rimasto affare di pochi affare di notabili di nobili e perché no quelli che potevano candidarsi o votare e invece con l'avvento del suffragio ampliato e con le masse che entrano nella storia attraverso anche lo sviluppo industriale nascono appunto i marxismi e le social democrazie i nazionalismi cioè si contrappongono questi gruppi e ogni gruppo ha il suo attore principale per esempio per la social democrazia per il comunismo l'attore principale la classe la classe sociale che si scontra con un'altra per i nazionalismi non è la classe ma è la nazione la nazione che si scontra con un'altra ora quando scoppia la prima guerra mondiale tutti pensano che sarebbe durata poco c'era roba di qualche settimana e poi sarebbe rientrata in realtà dura quattro anni e diventa una carneficina diventa una carneficina praticamente dimostrando tutto l'opposto di quello che aveva predicato il liberalismo progressista il mondo andrà meglio il mondo andrà per il meglio il benessere si diffonderà invece non è stato così milioni di persone sono state uccise altrettanti milioni sono tornati a casa segnati provati feriti nella testa e nel corpo e questo naturalmente non poteva sostenersi più cioè questo sistema positivo positivista di come dire di esaltazione del progresso non poteva esistere più i migliori esempi proprio di questa di questa letteratura diciamo è critica nei confronti della realtà del progresso la troviamo proprio anche a cavallo delle guerre mondiali si se ne rende conto in effetti anche col nazionalismo che gli uomini sono diversi cioè che non si può essere tutti appartenenti a un universo cosmopolita mondiale dove tutti siamo amici e fratelli perché in realtà la guerra aveva dimostrato il contrario le persone si erano ammazzate per la nazionalità no quindi non questo universalismo propagandato da valori scientisti e post illuministi non poteva non poteva reggere in questo contesto quindi nasce l'opera di george sorel george sorel è molto importante ricordarlo è un ingegnere non è un filosofo di professione non è un un umanista è un ingegnere che a un certo punto della sua vita decide di andare in pensione di lasciare l'attività anche ben pagata e anche con prospettive vuole lasciare l'attività e si ritira una sorta di pre pensionamento e comincia a occuparsi di politica all'inizio anche lui cade nel tranello scientista positivista ritiene che finalmente abbiamo trovato una abbiamo trovato una dottrina scientifica cioè quella del del marxismo che doveva essere analizzata in maniera scientifica cioè il marxismo funziona l'ha detto marx e diciamo anche nei suoi primi scritti emerge questo emerge la volontà di stabilire le in essi logici scientifici del marxismo però molto presto anche complice la prima guerra mondiale si rende conto di un fatto che quello che smuove le persone non è la teoria del marxismo quello che smuove le masse ad andare in piazza a scontrarsi a combattere non è la razionalizzazione della teoria marxiana o del delle contraddizioni di classe non sono queste cose non è con la logica io dico attenzione dico anche purtroppo a volte no però la realtà è questa non è che con la logica che si diciamo così attraggono le masse non è col pensiero razionale non è mai stato così mai stato così basta vedere insomma se uno facesse anche banalmente un'opera d'arte no chiamo caso un film o anche un libro quale secondo voi avrebbe più successo uno che parla alla mente razionale dell'individuo o uno che parla all'intimo all'estinto ai sentimenti chiaramente avrebbe più successo questo quindi sorelle si rende conto che in effetti questa idea della del socialismo come scienza non funziona non è questo quello che muove la gente sono le parole d'ordine che sono insite in questo mito della rivolta quindi il socialismo il comunismo il marxismo sono hanno più efficacia se fanno leva su questi su queste componenti ora bisogna stare attenti quando si parla di istinto non significa che deve essere per forza qualcosa di sbagliato cioè qualcosa di negativo o anche qualcosa di come dire di falso perché è vero che attraverso l'istinto si può abbindolare no perché quando uno ragiona razionalmente uno potrebbe anche diciamo non cadere vittima di tranelli invece quando si parla all'istinto quando si parla al cuore ai sentimenti più facilmente ma non necessariamente deve essere questo cioè non necessariamente la rivoluzione deve essere una falsità sorel sta dicendo semplicemente che la massa ragiona in questo modo quindi la massa secondo sorel ma non solo lui anche gustave lebon perché sorel riprende lebon questo psicologo francese dell'ottocento che aveva per primo uno dei primi studiato scientificamente la massa come la massa reagisce come si comporta la psicologia delle folle la psicologia della massa sono opere scritte da lebon che sorel conosceva quindi la massa è come una specie di bambino diciamo la verità cioè è come è come una sorta di essere che non ha o che non riesce o forse per essenza non riesce a sviluppare un modo di pensare razionale perché questa è la domanda delle domande quando durante questi anni ci si è chiesto ma com'è possibile che la gente non riesca a capire che certi comportamenti governativi siano i liberali liberticidi come come non riescono a capire che effettivamente insomma ricorrere a dei medicinali in fase di sperimentazione sia un po' rischioso ecco ma possibile che la gente non riesce a capire questo ci si chiedeva ci si chiede la risposta a questa domanda è ma forse non può fare altro cioè forse la massa in quanto tale è per costituzione a uno stadio inferiore rispetto a quello che può raggiungere il singolo individuo quando utilizza un certo tipo di ragionamento per cui bisognerebbe poi investigare questo se la massa è per costituzione immatura incapace di ragionare oppure lo è per per accidenti esterni questo bisognerebbe poi capirlo può essere può essere oggetto di ulteriori indagini tant'è che sia le bon sia sorel si rendono conto appunto di questa cosa e cioè che la massa non la muovi non la stimoli con i ragionamenti teorici ma la stimoli con l'azione e qui sorel si rifà anche al pragmatismo americano che riteneva l'azione molto importante nella nella nell'espressione della verità di un concetto e un altro filosofo che colpisce anche sorel e henry bergson bergson quando parla di slancio vitale e l'an vital cioè secondo bergson tutti gli esseri hanno una forza vitale che vivifica l'essere noi non siamo semplicemente cervello corpo ma c'è una una forza uno slancio vitale che è quello che fa muovere le cose fa muovere le cose secondo sorel noi abbiamo questo slancio vitale questo che ci muove non le chiacchiere non le isofismi e questo che ci muove lo slancio vitale l'opera più famosa di di sorel appunto è riflessioni sulla violenza sorel non è un vero e proprio filosofo perché lui non non realizza un sistema sorel praticamente cosa fa scrive un po alla maniera giornalistica infatti se leggete le sue opere lui fa sempre riferimento ai fatti del tempo e poi fa riflessioni anche più teoriche quindi non è un filosofo sistematico vedete anche qui c'è la differenza non c'è la sistematicità di un filosofo razionale razionalista che spiega passo dopo passo il suo sistema non è questo anche nelle opere ora una una cosa che è importante sottolineare da so di sorelle proprio questa sua questo suo atteggiamento che potremmo definire anti intellettuale perché perché è evidente che se il marxismo diventa sofistica se il marxismo diventa un discorso puramente teorico razionale è chiaramente è materia di intellettuali altronde sorel è stato profeta perché che cosa è diventato il marxismo è diventato un territorio di opportunisti che appunto utilizzando l'arte della retorica della sofistica non facevano altro che appunto come dire elaborare teorie che però non hanno mai avuto nessuna applicazione pratica non sono riuscite a scalfire di un millimetro la società borghese che criticavano che volevano distruggere che era foriera di negatività ecco non hanno cambiato mai nulla quindi l'intellettuale da parte di sorelle è visto in maniera molto negativa d'altronde se insomma basta fare caso a quello che avviene oggi non solo in italia è l'intellettuale veramente una persona diciamo io diciamo li metterei anche a livello più basso dei dei giornalai o delle casalinghe ecco voglio dire dai giornalai e dalle casalinghe si può avere a volte un un'analisi molto più pertinente rispetto ai cosiddetti intellettuali di oggi che siamo abituati a vedere nelle televisioni o di cui siamo abituati purtroppo a a trovarci libri intorno e sorella aveva ragione perché chiaramente l'intellettuale inserendosi in quel sistema di chiacchiericcio che non porta a nulla e rappresenta un ostacolo all'azione ecco perché sorelle poi sfocia in un sindacalismo rivoluzionario perché chiaramente ritiene che solo gli operai solo i lavoratori possono fare qualcosa no ora io qui so la critica che si muove la critica che si muove è sì però non è che la massa può comandare no se la massa noi abbiamo detto che è immatura che è incapace di di governarsi eccetera eccetera ci deve essere una persona che guida certo c'è una persona che guida effettivamente ci deve essere ci può essere non sto dicendo che non ci debba essere ma se uno pensa che gli intellettuali soprattutto quelli di oggi siano persone capaci di guidare le masse siamo proprio fuori strada siamo proprio come dire dei sognatori illusi dei poveri illusi se pensiamo che gli intellettuali di oggi di centro di destra e di sinistra possano guidare non si sa quale emancipazione dell'uomo dalla propria condizione siamo fuori chi crede questo mi dispiace dirlo ma chi crede questo è un povero illuso questo è poco ma sicuro poi che ci siano delle persone intelligenti capaci che facciano delle analisi questo non lo metto in dubbio non voglio generalizzare nella critica negativa però pensare che ci siano delle persone che possano indicare la strada francamente io non ne vedo non non vedo non vedo ma non lo vedo perché come dire l'intellettuale di oggi è un opportunista cioè un intellettuale di oggi bisogna capire soprattutto quelli che riescono ad avere una certa visibilità e una certa e certi palcoscenici sono come dire legati a doppio filo a questo sistema quindi come potete pensare che un intellettuale oggi possa volere il cambiamento di questo sistema che è quello che gli dà da mangiare fondamentalmente è quello che gli permette anche di non lavorare altrimenti dovrebbe andare a lavorare e se questo sistema gli permette di non lavorare e voi pensate che questo possa indicare alle povere persone come fare a emanciparsi a superare questo sistema ma non accadrà mai assolutamente mai quindi sorelle dopo la critica anche agli intellettuali arriva anche a formulare quello che è il famoso concetto di mito politico di cui ho parlato anche in altri video nella puntata del rasoio di hocam per esempio ecco il mito politico si riallaccia a quello che dicevo prima cioè se non è la razionalità che muove le persone è la mitologia il mito ma d'altronde scusate la razionalità nella nel pensiero è nata successivamente cioè se noi vogliamo dividere per comodità anche di comprensione il pensiero umano la storia del pensiero umano quella che noi chiamiamo razionalità cioè la razionalità diciamo così filosofica ma poi anche strumentale nasce successivamente cioè nasce nell'antica grecia con aristotele una certa razionalità di tipo filosofico e poi quella strumentale nasce con l'età moderna nasce con bacone nasce con cartesio questo è la razionalità ma nel mondo antico antichissimo della grecia antichissima dei dei misteri dell'orfismo dei misteri di eleusi e non c'era la razionalità come la conosciamo oggi c'erano i miti c'erano i miti ora noi siamo abituati a pensare che il mito si contrappone alla razionalità perché il mito è una favola no noi siamo abituati a pensare questo che il mito la mitologia è come dire racconti per i bambini siamo abituati a pensare che i miti greci sono dei racconti di favole ma guardate che i greci prendevano i miti molto seriamente cioè il pan di diciamo il politeismo greco non erano scherzo era una ci credevano davvero a quelle cose lì quindi noi oggi ovviamente contrapponiamo il mito al alla razionalità ma è un nostro modo di pensare contemporaneo moderno derivante appunto da questa usura da questa come dire potere usurpato da parte di una razionalità strumentale che è arrivata e ha detto no tutto quello che viene prima di me è fantasia tutto quello che viene prima di me è inutile ora che la razionalità strumentale serva non lo metto in dubbio voglio dire che bacone abbia dei meriti non lo metto in dubbio che cartesio abbia dei meriti non lo metto in dubbio ma la pretesa di dire che solo la razionalità strumentale sia quella da ascoltare da utilizzare che abbia autorità oppure che solo da quel momento l'uomo abbia fatto la sua evoluzione questa mi pare veramente un po esagerata come affermazione no non possiamo buttare via millenni di storia e di pensiero perché appunto a un certo punto uno ha deciso che quattro formulette matematiche spiegavano il mondo ecco il mondo è molto di più di quattro formulette matematiche benché le formulette matematiche servano anche loro ma il mondo è ben più di questo e quindi il mito di sorelle per tornare a noi il mito di sorelle è questo cioè è la consapevolezza che non puoi muovere la all'azione le persone se non gli dai un mito ora il il diciamo il socialismo di sorelle viene definito socialismo aristocratico io qui ho questo testo vedete di valentino petrucci saggio su george sorelle socialismo aristocratico edito da edizioni scientifiche italiane un testo insomma abbastanza datato del 1984 però credo che sia un testo molto interessante su sorelle perché ne ripercorre proprio la biografia intellettuale e appunto socialismo aristocratico non è sbagliato perché il socialismo di sorelle è una sorta di fideismo cioè ci si crede non bisogna analizzarlo scientificamente non bisogna spiegarlo razionalmente il il socialismo di sorelle è fideistico da questo punto di vista se vogliamo fare un parallelo con la religione no cioè ci si crede e il credere il credere stesso che porta all'azione un po come quando quando william james parla pragmatista americano parla appunto della volontà di credere no cioè se tu credi in qualcosa in questo gli americani sono molto diciamo avvezzi a questo modo di pensare se tu credi in qualcosa quella cosa è giusta cioè quella cosa può accadere e ti dà la possibilità di agire perché tu ci stai credendo ma se non ci credi non avverrà mai ora sappiamo che la cosa è un po più complessa di come la pensano i pragmatisti però per per capire per far capire che il socialismo di di sorelle la diciamo l'idea di agire di azione è permeata tutto di questa idea di 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 mito di fede devi crederci e allora verrà oggi noi abbiamo una oggi sorelle sopravvive vedete questo è importante sorella oggi sopravvive perché dov'è che sopravvive ma scusate quando vedete quelle persone che vanno a sfasciare le vetrine dei negozi oppure vanno a a fare le proteste contro le statue gli staccano la testa le le dipingono no e tutti questi movimenti così colorati arcobaleno eccetera che però sono violentissimi no che sono iconoclasti ecco loro agiscono forse inconsapevolmente perché immagino che insomma molti di loro non conoscano sorelle alcuni sì altri no però il loro è un sorelismo inconsapevole perché loro agiscono esattamente così cioè loro non stanno ragionando razionalmente dicendo faccio questo perché devo no il loro è un'azione determinata mossa dal mito cioè io rompo una statua stacco la testa una statua perché devo il mio mito mi dice di fare quello sto facendo una cosa giusta e il risultato si avrà è evidente che da un punto di vista razionale un'azione di una stupidità incredibile di una stupidità incredibile dal punto di vista razionale e logico ma da un punto di vista strettamente simbolico quindi mitologico è un'azione efficacissima soprattutto oggi pensateci oggi che c'è la che c'è la la comunicazione che ci sono i mezzi di comunicazione la tecnologia fare un'azione del genere mossa da un mito crea un effetto a catena simbolico di proporzioni incredibili e soprattutto crea una cassa di risonanza mai vista prima che difficilmente ci sarebbe se uno si mettesse lì a spiegare le ragioni razionali e logiche del perché si stacca la testa una statua o si imbratta un muro chiaramente logicamente non c'è non si capirebbe non si potrebbe esprimere e invece lo fanno in modo simbolico lo fanno in modo mitologico quindi il sorelismo è rimasto il problema è che viene utilizzato dalla parte sbagliata per molti no per molti la parte sbagliata e io credo che l'inefficacia della parte che si contrappone a questa sta nel fatto che risponde al fideismo dell'azione alla mitologia dell'azione risponde invece con le categorie razionali del pensiero cioè la democrazia si ma ragioniamo ma ma parliamo ma analizziamo ecco vedete questo non è il modo di contrapporsi a queste perché come bene aveva intuito sorel gustavo lebon e altri e questa forza del mito è una forza istintiva quasi animalesca che non può essere assolutamente controllata dalla ragione non può essere non si può contrapporre un discorso razionale dialettico a questo tipo di azione questo l'aveva compreso george sorel e oggi però molti di quelli che si oppongono a questi iconoclasti e non lo capisce continua a usare parole ecco appunto intellettualistiche continua a fare discorsi intellettuali per opporsi a queste cose ma non funziona non funzionerà mai di fatto non funzionerà mai perché appunto la parte istintuale è quella che sottintende a questa azione quella di cui parla sorel e non soltanto quindi vedete l'attualità di sorel quanto è importante quanto è ancora diciamo viva non è un caso infatti che sorel poi sarà trasversale sorel sarà considerato dalla destra dalla sinistra quando verrà a mancare sia in unione sovietica sia in russia sia in italia ne parleranno tutti i giornali voi sapete in italia c'era già il fascismo e nel 1922 c'era già il fascismo e in russia in unione sovietica c'era già il comunismo ecco tutti e due paradossalmente renderanno omaggio a questo pensatore pensatore appunto di tipo trasversale quindi per capire la sua portata oggi forse dimenticato ma secondo me dovrebbe essere a parte la questione sul sindacalismo rivoluzionario che io la trovo datata come analisi come risposta però sicuramente tutta la descrizione della società l'analisi della società l'analisi degli intellettuali credo che sia assolutamente cogente oggi per come sorella la presentava grazie quindi per l'attenzione iscrivetevi al canale se volete seguitelo anche nei social che trovate in descrizione grazie a tutti alla prossima